Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su questo nuovissimo video di minecraft in video in cui andiamo a provare tutte le modalità di multiplayer oggi siamo qui su 1 vs 1 che non so neanche io come funziona ma presumo che bisogna combattere quindi entriamo allora eccoci qua nel team 1 vs 1 combatterò contro lui penso ciao non so come funzioni quindi non mi insultate siamo 1 contro 1 perfetto fin qua ok è partito il round ok almeno in questo riusciamo a vincere aspettate aia ma lui è l'armatura inferno anche io perfetto ok no 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 devo grattare la spalla che cazzo c'ho ai pidocchi no aiuto che fa bastardo siamo combattendo contro un panda e stiamo perdendo quindi ma quella l'accendino non vale utilizzare l'accendino lo uso anche io adesso ma no ma ce n'avevo uno ma dimmelo ma dimmelo aiuta mezzo cuore ok primo round ovviamente siamo morti mi pare anche giusto no se lo prende quello felicissimo tra l'altro siamo nella mappa delle torte ma è pezzente dai vieni qua aspetta 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 lo piglio con la canna con la canna con la canna ma no regà regà non lo stiamo a fare il culo non è vero è lui che sta facendo il culo a noi ah un oreno gigante corriamo 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 via via dove sono ok dove è lui ah l'ho trovato l'ho trovato non c'è bisogno di me aiutate ah mi pare un cuore niente regà io non ce la faccio sono proprio negato per l'uno contro uno via andiamo via andiamo via andiamo via uoh c'era una freccia che mi ha tagliato la testa i capelli in teoria perfetto bravissimo oddio regà che cosa sta e vabbè abbiamo vinto va bene gg grazie mi ho scopato che neanche il pvp e l'uno verso su non fa per me se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace ditevi una bella menata e noi adesso ci vediamo a un prossimo video ciao